Salve a tutte e a tutti. Io sono il professor Elpidio Romano, docente della Facoltà di Ingegneria dell'Università Uniret 1. Sono qui a presentarvi il corso dal titolo Logistica e supporto al prodotto. Parleremo della logistica in questo corso. La logistica rappresenta l'insieme delle attività fisiche, funzionali, operative, decisionali che vanno dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla consegna del prodotto finito e al suo uso sostanzialmente nelle mani del consumatore finale. Quindi vedremo in questo corso tutte le fasi operative, ma anche fisiche, ma anche funzionali, che attengono all'attività di produzione di un prodotto, di un insieme di componenti che costituiscono un prodotto. E poi vedremo anche come questo prodotto fluisce dall'attività di produzione, dalla fase di produzione, fino ad arrivare nelle mani del consumatore finale. Quali sono gli argomenti del corso che si affrontano? Un primo momento sarà quello della introduzione alle fasi operative nella logistica. Introdurremo e caratterizzeremo tutte le fasi operative della catena logistica, appunto dall'approvvigionamento fino alla consegna del prodotto finito. Ci proporremo poi di classificare i sistemi produttivi all'interno della catena logistica. Come dicevamo prima, la logistica non è solo il luogo, un luogo non si occuperà solamente di ottimizzare la localizzazione dei siti produttivi, ma si occuperà anche di gestire i siti produttivi, si occupa anche di gestire in maniera ottimale i siti produttivi. Quindi dobbiamo avere una conoscenza di quali sono i sistemi produttivi e come classificarli, in ragione anche della tipologia di prodotto che si sta realizzando. Partiremo, una volta definiti i sistemi produttivi, andremo verso la cosiddetta gestione dei materiali a scorta. Ci occuperemo del punto critico dell'intera catena logistica, cioè appunto la gestione dei materiali a scorta. E lo faremo attraverso la definizione di due modelli, di due fasi, cioè le tecniche di modelli di gestione a ripristino delle scorte, utilizzando i cosiddetti modelli deterministici e probabilistici, e i modelli e le tecniche di gestione a fabbisogno delle scorte utilizzando le procedure MRP. In sostanza, attraverso queste due fasi, attraverso questi due macro argomenti, ci occuperemo di tutti gli aspetti più quantitativi, definendo appunto tecniche e modelli quantitativi, modelli matematici, che consentono di gestire le scorte all'interno della catena logistica. Direi meglio di gestire in maniera ottimale le scorte all'interno della catena logistica, laddove l'ottimalità consiste nella gestione al minimo costo, cioè in maniera efficiente, oltre che efficace, delle medesime all'interno della catena logistica. Teniamo presente che questi due macro argomenti fanno riferimento a due grossi paradigmi, per così dire, della gestione operativa delle scorte. Il primo, rappresentativo della cosiddetta gestione a ripristino, più facile, più intuitivo, che attiene al controllo continuo del magazzino. Il secondo, invece, un po' più caratterizzato da tecniche più sofisticate, soprattutto da tecniche matematiche, ma tecniche anche informative, un po' più sofisticate e che hanno l'obiettivo di ridurre le scorte a magazzino, tentando di realizzare ordini solamente quando è necessario, solamente quando è possibile, solamente quando esistono dei fabbisogni relativi di determinate tipologie di materiali. Successivamente ci occuperemo, una volta caratterizzate le scorte, ci occuperemo poi dei magazzini industriali, quindi da un punto di vista fisico-funzionale. E quindi vedremo le aree di stoccaggio, ci occuperemo dei modelli di dimensionamento dei magazzini manuali, modelli di dimensionamento che terrà conto appunto di quali sono le tipologie di ingresso, quali sono le fasi di ingresso ed uscita da un magazzino, quali sono le diverse tipologie di scaffalatura, quindi di stoccaggio utilizzate mediante scaffalatura oppure catasta, oppure attraverso delle scaffalature automatizzate e quant'altro. E parleremo anche del cosiddetto material handling, cioè della gestione dei mezzi di movimentazione delle merci all'interno del magazzino. Quindi con questo macro argomento e nelle varie sotto aree saremo in grado di acquisire delle competenze relative al dimensionamento di massima e alla gestione di un magazzino da un punto di vista fisico. Magazzino, luogo nel quale io effetto lo stoccaggio per il ripristino delle scorte, effetto lo stoccaggio per garantire la continuità sostanzialmente del flusso materiali all'interno della catena logistica. La parte finale delle fasi di produzione e delle fasi di immagazzinamento fondamentalmente si realizza attraverso il cosiddetto packaging delle unità di carico, cioè in pratica ci occuperemo in questo argomento di come effettuare l'imballaggio delle quantità prodotte, degli ordini realizzati dai vari clienti e quindi ci occuperemo di quale tipologia di imballaggio è più utile realizzare per minimizzare in questo caso le movimentazioni, per minimizzare le quantità, come dire, per minimizzare i costi in qualche modo di movimentazione. L'altro macro argomento del corso si chiuderà con un insieme di lezioni che riguarderanno la logistica ed il ciclo di vita di un prodotto. Ci occuperemo, in pratica guarderemo non più alla fase di costruzione, di assemblaggio, di dimensionamento delle varie fasi operative, ma ci occuperemo del prodotto e quindi ci occuperemo del prodotto caratterizzandone la sua vita utile, il suo ciclo di vita, dalla fase di progettazione e ideazione fino alla fase di realizzazione e quindi di implementazione, realizzazione di ingegnerizzazione dello stesso, prodotto che costituisce l'elemento che fluisce all'interno della catena logistica, cioè che definisce, è l'agente che fluisce all'interno della catena logistica. Con questa serie di lezioni si chiude il corso di logistica e supporto al prodotto. Quali sono le finalità, che cosa avremo compiuto una volta che abbiamo seguito il corso di logistica e supporto al prodotto? Sicuramente acquisiremo un insieme di conoscenze e di competenze che ci consentiranno di avere appunto spunti di utilizzazione, potremmo avere la capacità di dimensionare magazzini industriali, perlomeno nel dimensionamento di massima, avremo sicuramente delle competenze, delle conoscenze che consentiranno di gestire i magazzini industriali da un punto di vista macro, ma anche da un punto di vista micro, individuando da un punto di vista matematico, cioè implementando in maniera quantitativa e quindi matematica, quali sono le regole di gestione ottimali che consentono di rendere il processo logistico il più efficiente ed il più efficace possibile. Quindi l'insieme delle conoscenze e delle competenze che consentiranno di utilizzare, di entrare a far parte delle figure professionali all'interno della logistica, sia in termini di dimensionamento di fasi o dell'intera catena logistica, ma anche in termini di gestione ottimale della catena logistica. Con queste considerazioni io vi saluto e vi rimando al corso appunto di logistica e supporto al prodotto.